Peculato e truffa continuate, i capi di imputazione con i quali la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha chiuso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio per l'architetto Bruno Labbate, il beneficiario di misteriose somme circa 800 mila euro per progettazioni mai seguite liquidategli dalla dirigente del settore finanza del comune di Reggio Calabria, Orsola Fallara, morta a suicida un anno fa. A darne notizie è quest'oggi il quotidiano della Calabria, gli atti, da quanto si apprende nell'articolo a firma di Giuseppe Baldessarro, sarebbero stati depositati all'ufficio GIP e GUP lo scorso 29 dicembre. Si attenda, venga ora fissata la data dell'udienza preliminare. Sarà il primo processo sul cosiddetto caso Fallara. Labbate, come si diceva, dovrà difendersi dall'accusa di peculato in merito alla somma di 160 mila euro accreditatagli di un soccolpo nell'agosto del 2010 per una consulenza professionale mai avvenuta. Soldi che lo stesso architetto ha messo non sapere a che titolo gli fossero stati elargiti dalla scomparsa dirigente di Palazzo San Giorgio. Ambizione arrivata soltanto dopo però l'iscrizione al registro degli indagati. Emblematici poi rispetto all'intera vicenda, una serie di altri incarichi ottenuti nel periodo precedente al mese di agosto di due anni fa e che gli sono valsi l'accusa di truffa gravata. Soldi pubblici non dovuti che in parte l'abate ha già restituito alle casse del comune di Reggio Calabria. Per il resto circa 552 mila euro, scrive ancora il quotidiano, il professionista ha proposto una transazione pari a poco più di 500 euro al mese, rigettata però dall'avvocatura di Palazzo San Giorgio. Mancherebbero le garanzie. Inoltre tale proposta, secondo gli esperti del comune, esporrebbe lente alla contestazione da parte della Corte dei Conti per danno erariale e non escluso che lo stesso comune, dalla procura indicato come parte offesa, possa nell'udienza preliminare costituirsi parte civile.